Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside, video velocissimo giusto per andare a presentare un po' quelli che sono stati i sorteggi di Champions League di quest'oggi, tenuti poco fa anni on, dalle 12 in poi. Prima di iniziare però come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così dovremo venire sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube, di seguirci anche sui nostri profili social che lasciamo in descrizione di Instagram, TikTok e Facebook e di seguirci anche sul nostro sito ufficiale www.acmilaninside.com per rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24 sul mondo rosso-nero. Allora, agli ottavi di finale il Milan incontrerà il Tottenham di Antonio Conte, potevano andarci meglio ma anche sicuramente peggio, quindi possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di questi sorteggi. Il Milan incontrerà per la quinta volta nella sua storia il Tottenham in competizioni europee, in precedenza li abbiamo affrontati tra il 71 e il 72 in Coppa UEFA e negli ottavi di finale proprio di Champions League di 10 anni fa, 2010-2011, e il Milan i precedenti contro questa squadra non sono ottimi, visto che in quattro partite abbiamo perso due volte, tutte e due nel 2010-2011 e abbiamo pareggiato per ben due volte nei periodi della Coppa UEFA. Quindi il Milan dovrà un po' sfatare questo tabù, ma in generale il Milan dovrà sfatare il tabù Inghilterra, perché da un paio di stagioni che quando si incontra una squadra inglese nei scontri diretti, in competizioni europee, il Milan non fa altro che uscire. Penso comunque l'anno scorso, ho parlato due anni fa con il Manchester United in Europa League, quando ovviamente non meritavamo di uscire ma quali sono altri discorsi, oppure tre anni, quattro anni fa quando acchiappammo l'Arsenal in Europa League. Quindi il Milan deve sfruttare a proprio favore il fatto di aver acchiappato una squadra abbordabile rispetto alle altre nominate in precedenza in quel settore di Champions League e cercare di invertire il senso di marcia contro le inglesi in Europa. Come ho detto, tra quelle dei test di serie era più abbordabile insieme al Porto e poi tra l'altro il Porto è capitato ai nostri cugini, quindi non possiamo lamentarci sinceramente. E rincontriamo Antonio Conte, allenatore che nei suoi anni di carriera da Milan ha praticamente quasi sempre vinto contro i Rossoneri, nel suo biegno interista in quattro partite ha vinto per ben tre volte, quindi Pioli dovrà cercare di sfatare anche questo tabù personale contro il tecnico Salentino. Il Tottenham comunque è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, molto probabilmente cala da un punto di vista tecnico-tattico in difesa, visto che non ha nomi altisonanti, ma comunque centrocampo e attacco sono roster di tutto rispetto, ma soprattutto da top club europeo. Basti pensare a centrocampo, giocatori del calibro di Holberg o comunque Bentancur, che può sembrare un meme, ma in Inghilterra sotto la guida di Conte sta stupendo tutti, e in attacco invece Kulosevski, Richarlison, Son, Kane, giocatori da caratura internazionale, che sono decisivi in Premier ma anche in Europa. Comunque Antonio Conte in Europa ha sempre qualche difficoltà, non ha un particolare feeling anche con la Champions, visto il fallimento con la Juventus prima, con l'Inter poi, ma anche con il Chelsea, quindi potremmo sfruttare a nostro favore questo. Ma quando vai a giocare a Londra in stati del genere, come il Tottenham Hotspur Stadium, dove comunque l'ambiente è caldo, dove il pubblico spinge i propri Benavini alla vittoria, non bisogna assolutamente partire né già sconfitti né già vittoriosi. Quindi il Milan avrà tutto quanto il tempo a disposizione per preparare al meglio questa sfida, bisognerà ovviamente vedere come i giocatori torneranno al Mondiale, ed entrambe le compagini avranno tantissimi protagonisti nella prossima competizione in Qatar. Al Milan penso Origi, probabilmente Magnan dipenderà dall'infortunio, Teo Hernandez, forse Calulu, Giroud, mi ci auguro per quello che sta dimostrando, De Cattelare, Leao, Serginio d'Est, mentre nel Tottenham avrà Henry Kane, comunque avrà i nazionali inglesi, quindi Kane, Dyer, avrà Joris con la Francia appunto con Magnan, avrà molto probabilmente Son, bisognerà capire un po' con il coreano, come risponde all'infortunio subito proprio settimana scorsa in Champions League, Gary Charlson. Quindi, che dire, sommando un poco, facendo un riassunto importante e veloce, giusto perché, ripeto questo video, veloce e indolore, l'ho definito, Milan e Tottenham sarà una partita molto equilibrata, leggo già un po' di disfattismo in giro per i social, anche da parte di alcuni opinionisti e giornalisti, che vedono il Tottenham di Antonio Conte favorito sui rossoneri, ma, per scaramanzia, posso dare loro ragione, ma ragionando e commentando in maniera obiettiva questo sorteggio, penso che il Milan possa tranquillamente giocarsela contro gli Spurs di Antonio Conte, ovvio. Forse la formazione di Londra è un poco più completa, ma soprattutto molto più esperta dal punto di vista europeo, anche se a livello di completezza Antonio Conte spesso ha detto che proprio la sua rosa manca di seconda linea all'altezza dei titolari, e questo non si sa poi a gennaio se faranno qualche colpo di effetto, in tal caso ci sarà da preoccuparsi, ma fino ad allora penso che le due squadre possano giocarsi a viso aperto e alla pari, ovviamente, questa qualificazione ai quarti finali Champions League. Qualificazione che qualora, ovviamente, il Milan riuscisse a qualificarsi e passare, potrebbe incontrare le due italiane qualora passassero, ma soprattutto potrebbero, anche se in maniera molto umile, io dico aumentare le possibilità di andare ancora più avanti in questa competizione, perché sono usciti i quartali di finale da capogiro. Penso a PSG Bayern, o comunque a Borussia Dortmund Chelsea, o a Real Liverpool, comunque squadre che sono in cima alla lista per vincere questa competizione, e scontrandosi già adesso agli albori di questa competizione, quindi alcune di queste andranno già fuori. Quindi, testa adesso, ovviamente, alla Cremonesia, alla Fiorentina, per determinare al meglio questa prima parte di stagione, e rimanere in scena del Napoli, che ha preso il line track di Francoforte, in tutto questo, quindi anche per i partenopei, un sorteggio a favore, quindi adesso l'importante è focalizzarsi sulla Cremonesia, sulla Fiorentina, per terminare al meglio questo 2022, poi pensare in futuro, a poche settimane dalle sfide, appunto, di preparare al meglio le partite contro il Tottenham di Antonio Conte. Ad oggi mi definisco molto soddisfatto, perché il Milan può dire la sua e giocarsi la qualificazione, poi, a marzo, si vedrà. Detto questo, era giusto, vi vedo un video per informarvi, e per dirvi la mia, insomma, su quello che penso su questi, su questi, su questi sorteggi. Ci vediamo in un prossimo video, molto probabilmente in settimana, mercoledì, per analisi post partite, analisi post partite pagelle, di Cremonesi e Milan. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere qui sotto nei commenti, cosa ne pensate voi, ovviamente, di questo sorteggio. Ci sentiamo nel corso della settimana, vi auguro, vi invito ancora una volta, vi sorto ancora una volta, a seguirci sul nostro sito internet, e alla prossima!